L'avvocato com'è? Sconvolto. Scioccato. Scioccato, scioccato, scioccato. La mia documentazione... Io ho avuto i documenti. Ero un avvocato. 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 Ah, ora, si. Io ho un messaggio per me. Scritto in una carta così. Io lo so solo un segnale. Io ho fatto un domenico. Non lo so, mi ha detto non parlare di questo. Dai, tolva il biglietto. Io con quello che sta succedendo ti do solo un consiglio. Non ti incontrerò più. Ma tu non stai seguendo? Che sta succedendo? Che cosa è iniziato lui? Di strage. Sono guardato a vista. Marcello, io non voglio più incontrare Graziano. Io non capisco a te. Non riesco a capire. Com'è che tu te li incontri? Marcello, andiamo a finare tutti in galera. Dice che... Non ancora l'arresto. Avrebbe detto... Cercato... 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 Andiamo in altri. Non è stato scritto. Dove... Perchettivamente esiste. Un studio a 300 metri dalla famosa Via Libertà che si è prestato a comprare appartamenti per riciclare e dare il loro soldi. con un atto pubblico. Il pagamento come è stato? Di questi... Cercato con assegni. Assegni circolari che loro avevano utilizzati anche per la transazione a Stacco di Sicilia. Quando scoprono che qualcuno di questi assegni è stato richiesto da gli azioni stessi. O da chi? Lo so. Posso contestare il riciclaggio e l'intestazione pittizia. Probabilmente più che il riciclaggio ti contestano l'intestazione pittizia. Ok? Guarda, l'intestazione pittizia è aggravata all'articolo 7. Loro te la contesteranno. Perchè lui fa riferimento a un boss. Quindi lui fa riferimento a Vincenzo Graziani.